La banca della provincia di Macerata è una realtà solida, destinata a crescere e far crescere il territorio, le imprese, la gente. Buonasera, benvenuti a Macerata Economia. Anche questa sera sintetizzeremo in maniera rapida i fatti, gli eventi più importanti che si sono verificati in questa settimana e che si sta concludendo nel mondo economico e finanziario italiano e nel mondo economico e finanziario europeo e internazionale. Poi ci collegheremo con la sala operativa della banca della provincia di Macerata, da dove il dottor Locci, il suo responsabile, ci aggiornerà sull'andamento dei mercati finanziari, monetari e anche valutari. E poi concluderemo con una intervista al dottor Sandro Bertini, il presidente della piccola industria, della compindustria di Macerata, che ci farà il punto sulla situazione delle piccole e medie imprese della nostra provincia, che sono un ganglo vitale della nostra economia. A livello italiano, l'evento più importante è stato sicuramente l'approvazione del patto di stabilità 2013, ex legge finanziaria. A sorpresa è stato preannunciato l'aumento dell'IVA di un punto da luglio, che dovrebbe essere compensato dalla riduzione dei primi due scaglioni dell'imposta IRPEF, decisione che ha suscitato più di una sorpresa, diciamo anche più di una critica, perché in un momento in cui i consumi stanno ancora più precipitando in Italia, siamo arrivati a meno 4%, l'aumento dell'IVA non è vista con grande accettazione, con grande favore da parte delle forze sociali, da parte degli esperti. E' anche se, dicevo, compensata dalla riduzione dell'IRPEF, che però esclude 8 milioni circa di cittadini che sono no tax, cioè non pagano tasse, quindi non sono toccati dalla riduzione degli scaglioni IRPEF, ed inoltre questa riduzione degli scaglioni IRPEF sarà compensata, come è stato detto chiaramente e scritto, da un taglio delle deduzioni fiscali, per cui da un lato ci sarà una riduzione delle tasse, ma dall'altro un aumento delle stesse, perché chiaramente la riduzione delle detrazioni farà aumentare i redditi colpiti dalle imposte. A livello poi italiano ancora da segnalare, e poi ne parleremo fra poco con il dottor Locci, l'andamento delle aste, dei BTP a 2, 3, 5 anni e poi dei botti il giorno precedente, che hanno registrato una buona domanda, una sostenuta domanda, ma anche una leggera ripresa degli interessi, un leggero aumento degli interessi. E in Italia ancora, altra notizia, l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della Tobin Tax, quindi della famosa tassa sulle transazioni internazionali, di cui sono fautori in modo particolare la Germania e la Francia, e che hanno visto fino a questo momento una posizione abbastanza tiepida l'Italia, la quale insieme alla Spagna ha deciso invece di intervenire dal 1 gennaio del 2013, è tutto ancora in discussione, comunque il governo Monti ha inserito come fonte di cespiti, come cespite produttore di reddito, per il piatto di stabilità di cui parlavo prima, questa Tobin Tax. A livello invece europeo, sicuramente l'evento, il fatto più importante è stata la formalizzazione da parte dei Ministri dell'Economia, dell'Eurozona, dell'ESM, dell'European System Mechanism, cioè del patto salva stati e quindi l'attesa che qualche paese tipo la Spagna si faccia avanti nella collaborazione con l'intervento, l'ESM opererà con l'intervento, l'abbiamo già detto la settimana scorsa, della Banca Centrale Europea. Ecco, questi sono i fatti più importanti che si sono verificati. Li sentiamo dal dottor Locci con il quale siamo in collegamento, ripeto, dalla sala operativa della Banca della provincia di Macerata, come i mercati hanno reagito. Buonasera dottor Locci. Buonasera Enrico. Allora, le borse europee hanno avuto un andamento incerto durante tutta questa settimana, questo in attesa sia dei dati trimestrali per la settimana prossima, sia per l'attesa degli sviluppi, per quanto riguarda il debito dei paesi periferici. In particolare il Fuzzimib ha cambiato più volte direzione in questa settimana e ha oscillato tra i 15.200 punti e i 15.700 punti. Bene, invece, la borsa americana, che attendeva oggi due indicatori principali, quello della produzione industriale e quello della fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan, che hanno fatto registrare risultati sopra le attese. Pertanto adesso la borsa americana viaggia in territorio positivo con un più 0,2%. Ecco, l'andamento della borsa comunque è stato abbastanza piatto, contrastato in questa settimana, mi sembra, la borsa italiana. Sì, è un andamento incerto, diciamo, è molto elevato alla volatilità, non ha fatto registrare una performance positiva di certo. Ok, Francesco, ecco, vorrei chiederti anche l'andamento dello spread, abbastanza buono, ho tenuto conto, ecco, prima mi sono dimenticato di dirlo che a livello europeo un altro fatto importante della settimana negativa è stato il declassamento del debito pubblico spagnolo da parte della Standard & Poor's, un'agenzia di rating, queste famigerate agenzie di rating, che ha ridotto da BBB più a BBB il rating dei titoli del debito pubblico spagnolo. Praticamente ha un passo dal junk, dal titolo spazzatura. che sarebbe una BBB. Ecco, senti, e quindi, allora, andando dai titoli allo spread, il passo mi sembra scontato come lo spread, quindi è stato, di ripeto, andamento discreto, con il punto al di sotto anche dei 350, mi sembra, un punto di base. Sì, nonostante il declassamento della Spagna e nonostante le altre titoli italiane che hanno fatto registrare dei tassi in leggero aumento, lo spread ha avuto un andamento positivo e quindi si è ridotto fino a toccare il minimo di 3,40, mentre la settimana scorsa si era attestato intorno al 3,50%. Scusa Locci, ultima domanda, mi pare che il dollaro, passando ai mercati valutari e concludendo il nostro collegamento, che ringrazio fin d'ora con la sala operativa della tua banca, il dollaro mi pare che si sia leggermente apprezzato invertendo la tendenza delle precedenti settimane. Sì, esatto Enrico, la settimana scorsa il cambio euro-dollaro si era attestato intorno a 1,3, mentre durante tutta questa settimana il valore di riferimento è stato 1,29, quindi notiamo un certo apprezzamento della valuta americana su quella europea. Allora, grazie Locci della tua cortesia e come avevo già anticipato all'inizio chiuderemo la nostra trasmissione con l'intervista che il nostro Ricci ha registrato durante la settimana con il dottor Sandro Bertini, presidente della piccola industria della compi-industria di Macerata, che ci farà il punto sulla situazione delle piccole e medie imprese della nostra provincia che rappresentano una struttura fondamentale, data la connotazione economica della provincia di Macerata, della nostra zona. Ecco come le piccole e medie imprese stanno reagendo ad una crisi che sembra sempre più pesante. Grazie e buonasera a venerdì prossimo. Presidente Bertini, il nostro paese sta vivendo una fase di profonda recessione che dovrebbe perdurare secondo le previsioni dello stesso governo anche nel 2013. Qual è la situazione della provincia di Macerata in questo contesto? Anche la provincia di Macerata non ha saputo sottrarsi a questa crisi che sicuramente per dimensione, per durata è una crisi senza precedenti. La situazione è sicuramente molto pesante. quando è scoppiata la crisi nel 2008 si pensava che fosse una cosa momentanea. Già alla fine del 2009 si cominciava a pensare di essere in fondo al tunnel, invece la cosa è stata completamente diversa. Quindi è chiaro che una crisi più incisiva e più dura e più crea danni. E questa è una crisi purtroppo senza fine. Quindi i danni sono stati fatti e sono danni pesanti. Probabilmente se ne faranno ancora altri. Quindi noi speriamo che il 2013 possa essere veramente l'anno di una ripresa. Le modeste dimensioni delle imprese fatte salve alcune eccellenze potrebbero acuire le dimensioni della crisi. Lei come Presidente dei piccoli industriali può osservare la situazione da un punto privilegiato, Presidente? Sicuramente sì. L'Italia, la nostra regione e quindi anche la nostra provincia hanno avuto negli ultimi 30-40 anni uno sviluppo estremamente importante e questo sviluppo è principalmente alle piccole e medie imprese che hanno creato ricchezza, benessere e occupazione. oggi questo sistema di piccole e medie imprese è in crisi. È chiaro che se non dovesse tenere il sistema delle piccole e medie imprese sarà l'Italia da fondare. Quindi è assolutamente indispensabile che tutte le istituzioni scendano in campo a soccorso del sistema piccole e medie imprese. Presidente, qual è il livello del credito bancario nella nostra provincia secondo le necessità correnti e di investimento dell'industria locale? Ecco, questo è sicuramente un punto estremamente importante, forse una nota dolente. Nei momenti di crisi o di fortissima crisi come l'attuale, per le piccole e medie imprese l'accesso al credito diventa estremamente difficoltoso, se non proibitivo e allora quando riescono a tenere credito lo lo tengono a condizioni veramente insostenibili. Quindi è uno dei punti che in questo momento sta mettendo in maggiore difficoltà la nostra rede di piccole e medie imprese. Quindi è assolutamente importante che le banche stiano vicino alle piccole e medie imprese, perché senza credito sicuramente una piccola e medie imprese non ce la fa reggio sul mercato. La banca della provincia di Macerata è una realtà solida destinata a crescere e far crescere il territorio, le imprese, la gente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.